Ciao ragazzi, facciamo questo video prima di tutto per farvi vedere che Jay sta bene e poi per ringraziarvi per tutti i messaggi che ci avete mandato e per esserci stati ed essergli stati molto vicini in questi giorni. Adesso io lascerei la parola a lui per raccontarvi che cosa è successo quella notte. Sì ragazzi, innanzitutto come ha detto Dan, grazie di cuore per tutti i messaggi di effetto che ci avete mandato e ci ha fatto tantissimo piacere sentire la vostra vicinanza. Vi racconto brevemente quello che è successo quella sera, io sono andato a cena da mia nonna, come capita spesso, ogni dieci giorni più o meno vado a trovarla e ho fatto la cena da lei, verso le dieci e venti sono sceso verso la mia macchina e sono salito sulla macchina, non sono partito subito perché mi stavo sentendo con Dan, stavo rispondendo a un suo messaggio. Mentre stavo rispondendo ho sentito un colpo sul vetro del passeggero, c'era un ragazzo che stava battendo sul vetro, mi sono girato, lui mi ha come salutato, detto qualcosa, adesso purtroppo non ricordo esattamente. La portiera del lato guidatore, quindi dove stavo io, si è aperta, io mi sono girato e mi sono trovato praticamente una pistola puntata alla testa e c'era questo altro ragazzo che mi ha chiesto di consegnargli tutto quello che avevo. Io ovviamente sono rimasto pietrificato al momento e il ragazzo però non mi ha dato un modo di poter reagire ma immediatamente entrambi mi hanno aggredito all'interno dell'auto quindi mi sono fondamentalmente saltati addosso con l'intento appunto di derubarmi. Ovviamente in questi casi non si sa mai come si può reagire, io ho reagito così totalmente distinto, probabilmente a mente lucida non avrei reagito in questo modo ma subendo l'aggressione ho pensato di dover agire così. Loro mi hanno immobilizzato per prendermi gli oggetti ma appunto non riuscivano e allora uno dei due ragazzi si è molto innervosito della cosa e ha cominciato a dirmi ti ammazzo, ti uccido, ti faccio fuori, ha cominciato a strangolarmi e ovviamente mi è sembrato come se mi volesse uccidere in quel momento. Io gli ho anche detto sottovoce mentre mi stava appunto strangolando che mi stava uccidendo ma è andato avanti e anche l'altro ragazzo mi ha messo la mano sul naso e sulla bocca nel mentre e sono arrivato a un punto proprio che non avevo più fiato, non riuscivo più a respirare però con la mano che avevo libera, la mano destra, sono riuscito a spingere la mano sul clacson e nella speranza appunto di avvertire il vicinato perché mi trovavo nel cortile condominiale di mia nonna nessuno ha notato il mio avvertimento però i ragazzi si sono molto agitati perché ovviamente i minuti stavano passando e quindi hanno un po' discusso tra di loro, io nel mentre sono riuscito a scivolare giù dalla mia macchina e rialzandomi il ragazzo con la pistola mi ha colpito con il calcio della pistola alla testa per qualche, mi ha dato due o tre colpi in testa con il calcio della pistola io sono riuscito a rimanere in piedi e loro sono immediatamente scappati insultandomi praticamente mi sentivo come se non avessi probabilmente più niente da perdere in quel momento lì perché i ragazzi secondo me non erano diciamo dei rapinatori esperti ma erano un po' alle prime armi quindi paradossalmente mi ha spaventato di più questa cosa qua perché loro non riuscendo a portare a termine la rapina stavano un po' perdendo la testa quindi è lì che è scattata un po' la pericolosità della cosa perché loro innervosendosi della mancata rapina erano secondo me in grado di poter fare qualsiasi cosa e preso dal panico sono andato a citofonare a mia nonna che abita con mia zia sono andato su a casa loro e abbiamo subito contattato la polizia la polizia è arrivata poi è arrivata anche la scientifica per prendere eventuali impronte anche se purtroppo quella sera pioveva quindi hanno fatto un po' di difficoltà perché ovviamente la macchina era aperta quindi è piovuto anche all'interno della vettura e niente poi è arrivata l'ambulanza e sono andato su in pronto soccorso dove poi mi ha raggiunto anche Dan con la sua ragazza e mia mamma che fortunatamente sono riusciti ad esserci e a starmi vicino perché per me è stato mi sono sentito molto solo in quel momento perché ho provato a chiedere aiuto alle persone nessuno è venuto al mio soccorso quindi avere loro comunque al mio fianco è stato per me molto importante perché mi sono sentito al sicuro anche se in quel momento forse mi sentivo come un cadavere che respirava praticamente perché non mi sentivo ferito dentro sia per la violenza del gesto sia per la cattiviera che hanno avuto questi ragazzi nei miei confronti perché credo che con tutte le persone mi sono sempre comportato diciamo in modo educato gentile sono sempre stato lontano da qualsiasi forma di di problemi e ricevere una cosa così cattiva da parte di due ragazzi che sono anche molto i due ragazzi erano molto giovani e mi ha molto inferito ma molto fatto stare male come se mi avesse tolto qualcosa dentro a livello proprio emotivo e quindi per me è già tutt'oggi che sono passati diversi giorni ora sto molto meglio gli antibiotici mi hanno sgonfiato tutta la faccia quindi fortunatamente non ho riportato lesioni gravi come avevo già detto anche nella storia di instagram fisicamente sto bene mi fa male la gola ovviamente per lo strangolamento però non sto abbastanza bene però sento ancora dei danni psicologici perché oltre a sentirmi poco sicuro ed avere un po' la paura di andare e tornare insomma alla vita normale ho anche una sorta di confusione in testa di mi sento un po' vuoto non so come spiegare questa sensazione e spero insomma di poter di poter recuperare questo e niente questo è quello che semplicemente quello che è accaduto le cose finché non ti capitano non dico che non esistano ma sono molto lontane da noi purtroppo questa volta è successo a Jay e anche per questo abbiamo avuto modo di rifletterci molto diciamo che la cosa che ci spaventa e che ci fa molta paura è che questo episodio di violenza abbia coinvolto due ragazzi molto giovani è vero che la cronaca comunque ci dice che quello di Jacopo non è un caso isolato ma ci sono sempre più situazioni e più casi di violenze e di aggressioni legate al mondo giovanile possiamo dire che ci sono modelli culturali sbagliati possiamo dire tantissime altre cose ma la cosa su cui ci sentiamo di riflettere è una la violenza non è mai una cosa figa e speriamo di non essere gli unici a pensarlo